Ci sarebbero immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato nella notte tra venerdì e sabato, sì, è il momento del litigio all'interno del bar, sì, è il successivo accoltellamento in Piazza Duomo, nel centro storico di Barletta, costato la vita al 24enne Claudio Lasala. Su questi video, incrociando le immagini con i racconti e le descrizioni fornite da alcuni testimoni oculari di entrambe le fasi dell'aggressione, stanno lavorando i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani per identificare i responsabili della morte del 24enne deceduto all'alba a causa di un colpo di arma da taglio all'addome. Gli inquirenti stanno cercando due persone. Quello che è stato fino ad ora ricostruito, infatti, è che il 24enne, dopo essersi allontanato da un locale nel centro storico di Barletta, dove aveva avuto un litigio con alcuni sconosciuti, nella tarda serata di venerdì sarebbe stato seguito e raggiunto da due uomini e uno di questi lo avrebbe colpito con una coltellata all'addome per poi fuggire. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è morta alcune ore dopo. L'autopsia sarà eseguita martedì prossimo nel Policlinico di Bari dal medico legale Francesco Introna.